Benvenuti a tutti ragazzi, qui è TheFuminense, e questo è il secondo episodio della Let's Play, della Luke Pack. Come abbiamo già detto, cuociamo la sabbia. Per prima cosa si cuoce la sabbia per fare il vetro. Come sapete, o per chi non sa, un carbone, un carbone equivale a cuocere otto pezzi di qualunque altra cosa. In questo episodio volevamo fare un orto, come infatti nella prima serie, oddio, attento, Nico. O, più traporta, come abbiamo già detto prima, abbiamo raccolto i semi, non fare il coglione, e poi volevamo andare in miniera, perché ora, poi, credo, dal terzo, dal quarto episodio, vogliamo continuare a... cioè, vogliamo continuare, vogliamo iniziare a fare i macchinari. Allora, poi, perché non ha visto il primo episodio, non avessi visto il primo episodio... Metteremo un link o in alto a sinistra o nella descrizione. Credo più nella descrizione, perché nel... in alto a sinistra, in sinistra o in destra, devo ancora imparare. E, comunque, credo che si faccia dalle annotazioni. Abbiamo cotto il vetro e lo mettiamo. Allora, aspettiamo che si coce il vetro. Io non ci posso fare niente qui, è un po' di palla, ci deve essere. Nel primo episodio è un po' tutto noioso, perché bisogna... Poi vi faccio vedere un altro tipo di crafting table, che potete vedere qui, che è il crafting table 3. Quello che vi ho fatto vedere è l'automatic crafting table, se non vi ricordate la combinazione, se si mette qui con un R e si vede. Invece il crafting table 3 si fa con un crafting table normale e un libro. Quindi, in questo episodio, noi... Dovremmo fare l'orto? L'orto? Vabbè, sì, dobbiamo... Venta di semi. Venta di semi e anche la canna da zucchero, in cui ci si fanno i libri. E quindi, per prima cosa, ora, dobbiamo andare a cercare... Appena finisce di cuocere questo... Appena finisce di cuocere questo legno, noi andremo a cercare la canna da zucchero. E successivamente, in questo episodio, si andrà a miniera. Come ho già detto, ho dichiarato delle cose 500 mila volte. Ok, finiamo di mettere questo vetro. Ragazzi, lo so, mi state annoiando, mi state aspettando, però... Ci deve mettere un po' tutto a posto, perché... Almeno decente ci deve essere questa casa. Allora, di fuori piove. È brutta cosa. Ok, allora... Ok, aspettiamo che si cuoce. Credo che mi metterò a cuocere anche... Qualche... Cazzo un po' Ragazzi, ma... Che cacchio... Normal? No. Siamo in normal. Perfetto. No, vedo che la... La vedo che non mi scendeva, magari, non lo so. Se l'ho messo in Facebook. Boh, perché che ne so. Ok, finito. Quindi ci facciamo una cesta. Tutto questo tempo non ho fatto niente. Ora mi sono ricordato che... Ci facciamo una cesta per mettere le cose dentro. Perché ora andiamo in miniera... Ora andiamo in miniera... Ora andiamo in miniera... La mettiamo, la mettiamo qui. Perfetto, allora. Qui ci lasciamo in legno. Poi... Qui facciamo così. Così, così, così. Questo non ci serve, no? Questo qua lo mettiamo a cuocere, noi andiamo di sotto. I semi in questo albero. Poi dobbiamo andare a cercare gli alberi della gomma. Che servono per fare... Di copper cable. Che servono per fare... Tante altre cose. Questo qua di legno lo portiamo tanto così, perché sì. Questo qua lo lasciamo qui anche questo qua, si potrebbe pure buttare, non ci serve a niente. Il fail che ho fatto nell'episodio precedente con la pressure paint. La polvere da sparo per fare la bomba, non serve a niente. E qua mettiamo a posto tutto l'inventario. Perfetto, ora andiamo. Questo qua lo lasciamo qui e andiamo. Andiamo, lasciamo a cuocere questi qua, va bene. Se si muove il legno, sì, il legno, certo. Se si muove la fornace a cuocere il vetro. Ok ragazzi, dopo tutta questa moscita partiamo. Partiamo, partiamo. Credo che per andare fino a giù in minera vi darò il video. Perché... No, oddio ragazzi, aiuto. Ci aspettavo qua fuori. Ragazzi, il lupo. Lupino, ma che lupino? Ok ragazzi, mi butto quest'orso dentro la lava che mi sta sulle palle. Mori. No, il pesce. Il pesce. Niente pesce, fa senso. Niente pesce. Ok ragazzi, vediamo di non... Mentre schiamo di sotto, di non cadere in una pozza di lava. Perché a volte succede. Ok ragazzi, abbiamo trovato qua del carbone. Carbone. Mare profumo. Vabbè. Lasciatelo in pace. Ok, prendiamo... Quanto... Fate caso a me ogni tanto. Eh, prendiamo un sacco di carbone. C'è un sacco di carbone. Meglio. Il mio record insieme a Nicco, che siamo molto tempo, giocamo molto insieme, quant'erano? 42, 45. Abbiamo trovato 45 pezzi di carbone. Tutti attacchiati. Tutti attacchiati ragazzi. Ragazzi, voglio vedere se nel prossimo... Nei commenti voglio vedere che voi scrivete. Avevo battuto il record, non è vero. Però, se lo volete fare, se mi piace. Comunque ragazzi, questo è il mio terzo commentare. Sì, questi sono sempre i miei primi commentare, quindi devo ancora migliorare molto. E quindi se ci sono dei punti in cui sto zitto... Significa che non ha niente da dire. Dici che non ha niente da dire, non ho cazzate da dire come i youtuber famosi. Ma non è che dicono cazzate, però intrattengono la gente dicendo cazzate. A me non mi vengono le cazzate. Madonna, quanto... Quanto cosa c'è qua? Prima di battere il nostro record. Porca miseria. Ma vediamo. Quanta cosa. Spero di trovare subito del metallo. Metallo, che cosa ho detto? Del ferro, così lo facciamo. Qualc'ho per... Ragazzi, prendete sempre il carbone, sempre tutto. Tutto il carbone. Ok. Copper. Grazie, scommetto che l'inventario mi si è impie subito. Subito, quindi bisogna tornare subito a casa. Subito, subito a casa, sì. Allora, prendiamo altro. Quanto collice? Non lo so. Ancora c'è. Ok. Torniamo. Che ancora quello lì sotto, non riesco a vedere bene. Vediamo un po' la luminosità al massimo. Oddio, ragazzi, il foglio. No, il foglio lo tengo qua. Ok. Video setting. Ok, perfetto al massimo. Prendiamo altro carbone. Che io non c'è più niente. Ok, ancora altro carbone. Ragazzi, vi faccio la taccia perché se no voi non vedete proprio niente. Oh, ecco. Ragazzi, quanto cazzo carbone abbiamo trovato? Puoi direvi se vi danno fastidio per l'acce che non ho cercato di non dirle più, no? Cerco, eh? Ok. Porca miseria. Quanto carbone. Ok, ora, ora, buio tutto, buio tutto. Ragazzi, vediamo se abbiamo battuto il record nel carro. Oh, ma porca miseria. Guarda, guarda che ho fatto qui. Questo cosa è più grande della mia casa. Porca miseria. Ok, vediamo. Oh, la madonna. Oddio. Mi sa che ho abbattuto, dico. Dietro avevo visto qualche materiale prima. Mi sa che era apatite. Ecco, apatite. Apatite. Apatite, credo... Oh, fammi prendere sta apatite. Apatite, sì. Credo che serve per fare armatura. Qualche armatura, sì. Ragazzi, ora vi stoppo il video. Andiamo... E i livelli bassi. Vi faccio la... Cioè, continuiamo a scendere in profondità, così a scaletta. Così che poi possiamo tornare su molto facilmente. Vi taglio il video, appena siamo sotto, lo riattacco. Bella. Oh, che cos'è? Ah, vabbè, siamo già sotto. Ragazzi, non serve tagliare il video. Mamma mia. Visto i miei fail. Io scavo due cubetti e mi trovo sotto la... La roba. Vabbè, Nico, parla un pochino. Guarda che ci dici. Non c'è da dire niente. Ragazzi, abbiamo trovato... Non è che io ho fatto nanti video in più di te, eh? Eh, anzi. No, lui non ha neanche il canale a dire la verità. Vabbè. Dettagli. Dettagli, dettagli. Ma che è qua? Ma questa è la miniera... No, ma questo è un baffo di quello che dobbiamo andare a prendere. No, che cazzo ho detto? Un baffo, sì. Eh, sì, ragazzi, prendo questo... Questi sono i cristalli. Quello che avevo detto della moda e della magia. Che va messo dentro la moda e della magia. Vabbè, ragazzi. Deglio il video, come ho detto, e ci vediamo di sotto. Eccoci, ragazzi, tornati e abbiamo scavato per un po' a scaletta. L'abbiamo trovato qui, abbiamo trovato del carbone, stavo scavando perché ho trovato anche altri materiali. Abbiamo trovato tin, copper, iron, mentre stavo scendendo. Scaviamo qui e troviamo questa grotta dungeon, come volete dire. Allora, continuiamo a prendere i materiali, molto noioso, però si deve fare. Siamo attenti al... qua, alla gravel, che sarebbe la chiaia, sì? Visto? Ragazzi, una cosa che ho imparato giocando molto a Minecraft è che nel carbone, vicino al carbone, c'è sempre qualche altra cosa. Se ti scavi il carbone, c'è sempre qualche altra cosa. Comunque, prima di scendere... Il ferro. Qua abbiamo trovato il ferro. Comunque, prima di scendere, se avete notato, abbiamo fatto un po' di torce, infatti, 55 torce. Siamo andati prima a casa, abbiamo un po' sistemato le robe nelle... C'è una ceste e siamo partiti e abbiamo fatto delle torce. C'è un bucone enorme. Sotto abbiamo visto e abbiamo deciso... Guarda pure in alto, magari. In alto, non c'è niente. Abbiamo deciso di far ripartire... Non si sa mai. Abbiamo deciso di far ripartire il video da qui perché abbiamo visto che era abbastanza grande questa grotta. Allora, abbiamo detto... No mai, facciamo partire. Comunque, qua siamo al livello... Aspetta, al livello... Ecco qua, si vede? F3. Ok, X400... Y35. Livello 35. Poi, scendendo di più, in questo pacchetto, al look pack, si trovano delle specie di... Come dire, Niko, delle grotte? Come dire? Delle specie di grotte a livello bedrock. Cioè, un livello sopra il bedrock. Sì, infatti se scavi è tutto piatto. Cioè, tutto bedrock. E piene, ma piene di materiali. Dove si trova molta, molta... Infatti ragazzi... Il mio primo video di Minecraft, quasi quella della sala di prima. Avete visto che... Nella nostra casa. Nella mia casa, sì, una nostra. C'era i blocchetti di diamante che, come avevo detto, mi pare, si facevano con nove di... Nove di diamante. Nella mia cazza di diamante. Questi sono dei nuovi materiali. E, come avete visto, io non posso romperlo con questa piccozza di cobblestone, quindi... Ne approfittiamo, prendiamo un po' di cobblestone. Sì. E ci facciamo la fornace. Perché ci mettiamo a cuore qui e la roba sta fuoco qua. Ci facciamo la fornace, come ho detto. Beh, tutti i tunnel crafting della fornace. Mettiamo la fornace, come vedete ho preso molto carbone, perché abbiamo trovato tanto. Abbiamo battuto il nostro record da 45 a 70, quindi anche di molto. E, dico, quel pezzo ti l'abbiamo fatto vedere. Eh, lo so. Sì. E qui prendiamo il ferro che ho trovato a scendere, noi lo cuociamo. Ragazzi, qua vi taglio il video perché se no ci vuole troppo tempo. Ragazzi, si è finito di cuocere il ferro. Vediamo se sto registrando. Sì, a posto, perché a volte no. Ok, è finito di cuocere il ferro. Ci facciamo la piccozza in ferro. Così possiamo prendere, guarda che bello, ne facciamo due, perché ci serviranno sotto. Così possiamo prendere gli smeraldi e i rubini che ho visto più sotto. Qua ci prendiamo, distruggiamo tutto. Qua lo faccio con la piccosa, anche se bisognerebbe farlo qua. Lascia. E ok, qua ci prendiamo gli smeraldi. Dovrebbero essere smeraldi. E emerald, che credo siano smeraldi in inglese. Eh, già. Eh, già, sì. Li prendiamo, sono tantissimi. Vabbè, sono veramente in seguito di zappa in inglese. Sì, sono un zappa. Ragazzi, successivamente vi farò vedere una cosa che è troppo bella, una mod. del transmutation table, che presente, ad esempio, questo smeraldo, serve solo per fare l'armatura. Sì, l'armatura o le piccozze, questa roba qui. Se voi non avete già fatto tutto di diamante o qualcosa, se siete avanzati, potete mettere questo smeraldo nel, bruciarlo nel transmutation table. Luce. Eh, come siamo la luce perché se no qua di YouTube non si vede niente. Bruciarlo nel transmutation table e così si vede, prendi dell'energia, diciamo, e si può riprendere i diamanti. Ragazzi, ora prendiamo i rubini e qua avevamo trovato, là, ah, ok, qual è la scomparsa? Oddio ragazzi, c'è acqua qui. L'ossidiana che noi non possiamo prendere. Se non con la piccozza di diamante che? E che non abbiamo, sicuramente. Ragazzi, noi qui continuiamo a scendere e ci vediamo fra un po'. Bene ragazzi, eccoci tornati, siamo arrivati giù, infatti guardate come vi avevo detto, se scavate qui sotto c'è il bedrock. E qua ora noi piazziamo un punto, waypoint, add, e mettiamo qua uscita, così non ci perdiamo qui sotto. Ok. back, exit, ok. Qua è il dungeon più o meno che vi avevo detto, in cui si trovano moltissimo materiale, infatti, ah, ecco, guarda, già il carbone, c'è il carbone e l'oro. Guardate quanto oro, qua si trovano moltissimi davanti. Il torch. Ora mettiamo un po' di torch, comunque ragazzi non riesco a capire perché io guarda, io sono il normale e non arrivano zombie eccetera, non arrivano zombie, creeper, altri mob, non riesco a capire. quando c'è tra due blocchetti uno così, si scava sempre e ci deve, sempre qualcosa ci dovrebbe essere, guarda, ora è il fail, anche non c'è niente, no, ecco, guarda, prendiamo qua, questo zeppo di materiali, infatti è difficile prenderli tutti. in aggiunta, comunque, come materiali ci sono, quello che vale di più è il tungstenor, che in minecraft normale non c'è, poi ecco, una nuova, oddio, là ho visto una freccia, quindi c'è un, cosa ho detto, c'è uno scletto, poi non ho la spada, perfetto, non ho la spada dietro, oddio, oddio ragazzi, aiuto, aiuto, ma scappiamo? cosa facciamo? eh, scappiamo. aspetta un secondo, aiuto ragazzi, mi chiudo un po' qui, ma quanti, quanti erano gli scheletri? erano quattro, tre scheletri, ragazzi, ci andiamo? ci andiamo, ci andiamo, facciamocela per la nostra spadona, lascia qui, che cosa faccio, no, che cosa faccio qua, la spadona, io c'ho paura però, metti una bella, certo, lasciamo qui, no, 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 aspetta, mangiamo, allora, aspettiamo un po', cinque secondi che ci, si ripristina la vita, se no andiamo su, qua prendiamo un po' di gravel, che la gravel ci dà la ser, come è che si chiama? flint, sì, che sarebbe la ser, che ci si fa all'accendino, intanto per non perdere tempo, oh raga, che culo, raga che culo, diamante, abbiamo trovato il primo diamante della serie prendendo la gravel, insomma, non si butta niente, buona come cosa, no, ok, comunque il tungstenor vale il doppio del diamante, quindi ora noi andiamo a cercare il tungstenor, che è molto difficile da trovare perché, cioè, sia abbastanza difficile perché è identico al carbonio, all'acqua, c'erano gli scheletri, non ci sono più gli scheletri, ma io così, ah, le torce, mettiamo giù le torce, io non sarei molto così, oddio, ragazzo, attenzione, attenzione, ragazzo, 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 tico, io dico, non ci sono i zombie, le scheletri, la spada, cosa c'è? Le scheletri, le scheletri, le scheletri, vabbè, tanto, in questa technique pack, le hook pack, perché qua, c'è il death point, quindi il death point ti fa vedere dove sei morto, infatti, se vediamo lì giù, noi siamo morti, e quindi ci andiamo a riprendere, non riesco a capire perché qua ci sono le cose che non riusciamo a passare, vabbè, e quindi ci andiamo a prendere il materiale, i materiali che abbiamo perso, andiamo, tutti, credo ce li danno tutti, perché, oddio, però siamo morti non è difficile la lava, quindi, può darsi che qualche materiale sia caduto dentro la lava, speriamo di no, ok, ragazzi, eccolo, porca miseria, ragazzi, credo che finisce questo, finiamo, qua l'episodio, cioè, finiamo questo episodio, prendiamo i materiali e finisce l'episodio, perché sennò vi ci incastrano, sono sicuro, cazzo, ragazzo, prendiamo la roba, scappiamo, barco, giù tra ragazzo, muoio di nuovo, oddio, ragazzo, oddio, sono rimorto, oddio, sono rimorto, vabbra ragazzo, io cerco di andare a riprendere la casa e finisce qua il secondo episodio con due morti del cacchio, bella, ciao a tutti, Nico saluta, bella,